Il Governo regionale, guidato da Renato Schifani in questi primi mesi, ha posto al centro della sua azione la politica sociale e la tutela dei lavoratori, principalmente in quei settori storicamente più tormentati. Nei giorni scorsi, su convocazione dell'assessore all'agricoltura Luca Sanmartino, si è tenuto un incontro presieduto dallo stesso assessore, a cui hanno partecipato il capo di gabinetto Giovanni Cucchiara e il dirigente generale dello stesso assessorato Mario Candore. È stata l'occasione per analizzare le tematiche dei comparti forestale, ESA e consorsi di bonifica. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la disponibilità dell'assessore a rendere costante il confronto con le organizzazioni sindacali di comparto. Sanmartino inoltre ha annunciato la propria intenzione di istituzionalizzare un tavolo permanente esteso a tutte le organizzazioni di rappresentanza sindacale del settore. L'assessore ha reso nota a tutti i presenti le risorse inserite nella legge di stabilità finanziaria, circa 248 milioni di euro, in favore di tutti i lavoratori forestali interessati al processo di salvaguardia del patrimonio boschivo regionale per l'anno 2023. L'assessore, infine, ha anche ipotizzato una riforma organica del comparto forestale da sottoporre entro il prossimo semestre all'Assemblea regionale siciliana. Sarà un testo coordinato frutto del contributo delle parti sociali con le quali la relazione sarà continua. Comunicazioni e promesse da parte dell'assessore Sanmartino che il coordinamento sindacale di categoria ha accolto con soddisfazione, recita la nota ufficiale, con l'auspicio che la tanto declamata riforma del comparto possa concretamente realizzarsi nei termini comunicati.